Noi come insegnanti dovremmo fin dalla scuola dell'infanzia essere attenti a proporre delle possibilità per le bambine anche di avere a che fare con aspetti di tecnologia applicata concretamente per esempio nell'acronimo STEM c'è anche l'ingegneria dentro noi spesso pensiamo che non stiamo facendo l'ingegneria mentre invece ogni volta che chiediamo di fare delle piccole costruzioni che possono essere con i fiammiferi possono essere con gli scadenti possono essere con il lego con gli strobis noi stiamo facendo ingegneria stiamo lavorando con gli spaghetti stiamo lavorando su degli aspetti di ingegneria fondamentale a cui spesso le bambine non sono abituate le famiglie sono diciamo una delle catene che ci portano a ripercorrere gli stereotipi e quindi nella nostra esperienza per esempio come istituto spesso abbiamo coinvolto anche le famiglie per far far loro dei laboratori come poi proponiamo ai loro ragazzi se noi partiamo già dando per scontato che non andiamo bene perché neanche la mamma andava bene la figlia non andrà bene stiamo davvero continuando una catena che conferma quello che la realtà ci conferma e che noi dovremmo essere in grado di scardinare siamo riusciti a coinvolgere negli anni a partire dalla scuola primaria delle bambine che adesso sono delle ragazzine e che ancora hanno voglia di continuare a seguire alcuni percorsi e ci chiedono proprio di poter partecipare su su cose che apparentemente appartengono ancora universo maschile per esempio un lavoro con le schede arduino o cose del genere proprio partire dalle esperienze che abbiamo fatto alla scuola primaria